Sì, ben trovati, l'appuntamento è quello del lunedì, di solito abbiamo trascorso un weekend sportivo, non lo diciamo da parecchio tempo oramai, ci auguriamo di farlo al più presto, eccoci a ricordare le principali notizie anche per oggi per quanto riguarda www.venetoglobe.com, VG Radio per quanto riguarda il web, mentre sul canale del digitale, quindi canale 95 per l'emittente Caffè TV 24 che ogni sera manda in onda il nostro programma, vi ricordo anche per il web che potete scaricare per Android e per Apple l'app per avere il tutto comodamente sul vostro telefonino. E allora partiamo con il calcio, per la ripartenza del calcio oggi ci dicono e ci giurano che è il giorno della verità, perché si parlerà di nodo retrocessioni con la Lega, senza alleati e oggi in consiglio si proverà anche a mediare tutto ciò. Sanzioni in arrivo per i club che non faranno i tamponi, la proposta alternativa è quella di far scendere solo due in serie B e no alla terza promossa in serie A, senza poi giocare i playoff, quindi capite che c'è un po' di confusione ancora su dove ci si deve andare a parare, su dove ci si muoverà. Il mercato invece almeno lì non c'è confusione, c'è un po' di vivacità, lo vivacizza l'Inter perché ritorna su Chiesa e quindi la sfida ritorna con la Juventus che sembrava essere in vantaggio in pole position sull'affare Chiesa. L'Udinese, andiamo a Udine dove l'Udinese sembra liberare Fofanà mentre Musso rimarrà. Lasagna ed Okaka, anche loro potrebbero rimanere in bianconero Udinese. Al Napoli si attendono i tre prolungamenti interni importanti per la società, sono quelli di Mertens, di Zelinski e del capitano, in questo caso il condottiero Gattuso. Al Torino invece oggi si opera Baselli, non ce l'ha fatta, si pensava che non dovesse ricorrere all'operazione, al ginocchio invece il suo rientro si spera e ci auguriamo tra sei mesi. Andiamo in Bundesliga dove il Bayern ha il comando con 70 punti, ne ha 7 di vantaggio sul Borussia Dortmund, mentre in Austria il Salisburgo è lanciato verso la doppietta dello Scudetto. In Serie B, quella italiana, si riparte il 20 come aveva già detto, Ascoli-Cremonese sarà l'antipasto il 17 e sarà una maratona di ben 65 giorni. Questi sono quelli del Pordenone, il Pordenone di Lovisa che nel fine settimana precedente aveva annunciato che le ultime tre gare del campionato di Serie B le avrebbe disputate al Nereo Rocco di Trieste, ma i tifosi triestini sono un pochino contrari ad ospitare i Pordenonesi. Vedremo quello che succederà. In Lega Pro oggi Monza, Regina e Vicenza dovrebbero salire, usiamo il condizionale, ma insomma è fatta per loro, dovrebbero salire in Serie B ed è pronto il piano play-off. Confermato il 28 giugno la finale di Coppa Italia tra Ternana e Under-23 della Juventus si giocherà in campo neutro. Il basket si fa sentire in queste ore per le situazioni di disagio e di difficoltà di alcune società della Serie A. I dubbi maggiori sono quelli di Pesaro, sono tanti tra cuore e ragione e la Serie A è sempre più lontana. Rinviata la decisione e Proli presenterà il suo progetto. Nuovo allarme intanto anche a Pistoia, mentre la Fortitudo per quanto riguarda il mercato, la Fortitudo Bologna, perso Tessitori, giocatore della TVB De Longhi Treviso che è finito alla Virtus Bologna, si aggiudica Totè, 22 anni, un giocatore che ha giocato proprio a Pesaro e che ha ben impressionato e quindi fa il salto notevole passando appunto alla Fortitudo. Per quanto riguarda la nostra cronaca regionale, finalmente alla Ghirada oggi per il Benetton Rugby è arrivata la possibilità di allenamenti con il pallone preventivamente disinfettato. Ancora vietata invece ogni possibilità di contatto fisico. In Ghirada da oggi sono ritornati anche i piccoli leoni del settore giovanile e il femminile delle Red Panthers. Riaperta anche la sede e gli uffici societari, tutto comunque anche in questo caso in attesa del board del Pro 14 che deciderà come chiudere questa benedetta stagione. Alla TVB De Longhi Treviso per il basket si saluta, vi dicevo, Tessitori passato alla Virtus Bologna, via anche Fotu che sembra indirizzato verso Venezia e Nicolic ritornato per il momento a Belgrado prima di piazzarlo in altre piazze importanti. Sembra in partenza anche Alviti, forse a Trieste. I punti fermi per Max Menetti che è il tecnico riconfermato di Treviso sono Chillo, Imbro ed il neoacquisto Carroll. Il sogno che sembrava concluso per il play rimane sempre Russell, era dato l'ok per l'acquisto invece non è stato così, era una fake news ma si spera che possa finire bene questa trattativa. Piano piano comunque si muove anche tutto il sottobosco cestistico trevigiano con Oderzo che saluta Steffè, il tecnico e lo sostituisce con Max Guerra. Nelle categorie della Serie C ci sono molte conferme sulle panchine ma anche qualche bella novità di cui parleremo magari nelle prossime settimane. E adesso siamo all'angolo dedicato al calcio. Come facciamo di consuetudine prima di avere una finestra proprio dedicata esclusivamente al calcio mercato con Flavio Cipriani, continuiamo ad ospitarlo. Ciao Flavio, buona giornata. Grazie, buongiorno a voi. Eccoci allora per parlare di calcio mercato regionale e poi andremo anche nelle nostre categorie. Da dove cominciamo? Cominciamo dalla Lega Pro? No, oggi la lasciamo ma coinvolgiamo un ragazzo che ha costruito la sua carriera in Lega Pro, Riccardo Bolzan, trevigiano di Gaglierine, che sta risolvendo il suo progetto, la sua intenzione. L'avevamo segnalato venerdì anche vicino al Campobasso di quanto è un ex, ma è la nocerina, che lo ha visto capitano per tre stagioni, a offrirgli questa opportunità di cattedra che sarebbe almeno dalle ultime ore il nuovo direttore sportivo della formazione rossonera. Quindi Riccardo Bolzan aprirebbe un percorso diverso da quello che è stato il calciatore per tantissimi anni. Bel colpo, bel colpo. Mi pare che la regia ci debba mandare due tabelle, una tabella, eccola qua, la vedete, la potete leggere, sono le panchine della serie di Girone C, insomma le 21 squadre sono, Flavio mi pare, bene. Sì, sono 21 squadre di questa panoramica, una griglia che ha ancora due vuoti e in questo vuoto noi andiamo a incastrare un puzzle che sarebbe il nome di Checco Feltrin. Oggi, lunedì, Checco Feltrin dovrebbe avere una quasi certezza della presenza a Chion, quindi la società gialloblu darà il suo assenso al tesseramento di Feltrin che ha come avversario, tra virgoli diciamo, Rossitto e anche Birtig, anche se Birtig vorrebbe portare a Chion, lo suo staff, quindi è una cosa un po' più lontana, ma comunque Checco Feltrin potrebbe essere l'allenatore del Chion, in quanto si sono incontrati proprio sabato pomeriggio a Oderzo, tra il direttore sportivo e appunto il tecnico trevigiano e c'è stato un pur parè che vedremo a fondare. Aver realizzato l'intendimento del tecnico di Trevigio. Eccolo qua. Poi c'è un'altra casella vuota, mi pare, no? Sì, andiamo a San Martino che il club è più in voga in questo momento, è il club che fa parlare di più perché San Martino, la Luparense, sta lavorando molto sul calcio mercato, sta contendendo alla Manzanese Severgnini, Libro del Mestre, poi ha intenzione di portarsi fracasso il Mancino dell'Est, ex Arzignano, quindi il direttore sportivo Alberto Briaschi sta lavorando a Soto, soprattutto in direzione di Este, dove potrebbe arrivare anche Stefano Pozza Capitano della formazione giallo-rossa che oltretutto ha in Calvina, nei brisciani del Calvina e nell'Union Feltri altri estimatori. Per quanto riguarda invece l'Union Feltri conferma per Mike Miniati, conferma del tornante bellunese in casacca verde-nero. Per quanto riguarda invece il settore dilettantistico, sempre della Serie D, c'è da registrare appunto che il sedico ha tentato la carta sotto via, non sappiamo ancora come andrà avanti, c'è il via libera per l'OAT centrale difensivo e il portiere brasiliano Miranda attende una conferma nel bellunese. Bellunese che libera Luqueo e libera soprattutto il portiere Busti che rientra alla Juventus. Ritornando a Chions invece la formazione friulana libera il libero Pratolino e il centrale difensivo dal compare che ha avuto questa mattina un apprezzamento da Nicola Fornasier, potrebbe essere una novità per Vittorio Veneto ma questo lo vedremo in futuro. Poi altre notizie, il San Donà sarebbe molto vicino a Casella della Liventina, il Cartigliano ha messo sotto i riflettori l'attenzione di Buson, centravanti del Borgo Ricco che andrebbe a rimpiazzare Pellitzer passato al Bassano, Trento che dà via libera a Caporali e Mediano che potrebbe interessare anche l'Union Sedico e a Marcolini centracampista che in Trento non ha avuto grande spazio, grande fortuna. Sotto via abbiamo già detto, da Trento invece come già anticipato Baido scenderà probabilmente e arriverà a Treviso, mentre Petir Biasi potrebbe lasciare il Trento ma chiudere anche con la carriera tecnica e di campo. Invece entrando nel panorama strettamente regionale vorrei fare una curiosità di colore e anticipare che l'Union Sedico aveva avuto anche come referenza per la panchina Ernestino Ramella, un allenatore settantenne che ha avuto un motivo e modo di esprimersi a Lugano, alla Caronnese ma sicuramente non era il profilo che cercava Moreno dalla vecchia e nella condizione tecnica dei bellunesi. Invece parlando di allenatori, strettamente di allenatori, Mirko Davidiova si avvicina al Montello essendo stato giocatore ma anche allenatore della formazione di Volpago. Novità invece dal Polesine e qui andiamo al binomio Luciano Vianello, Pino Augusti, il binomio che si potrebbe ancora riformare a distanza di due anni proprio al Porto Viro Donada per ricostruire una squadra che punta decisamente all'eccellenza e qui dovrebbe arrivare almeno da prime voci così anche Enrico Gerardi che lascerebbe lo Scardovari, Borgorico che conferma Alessandro Bertan sulla panchina, Valgatara che conferma Jordi Ferrari mentre a Montecchio se ne va Matteo Girlanda e il papabile è Bernardi, mister del mestrino ma c'è anche una possibilità che rientri alla base dopo una stagione al giovanile il tecnico De Forni. Liventina che appunto ha sul tavolo tanti allenatori, si è parlato anche di Tentoni che mercoledì avrà un incontro con il direttore sportivo che verrà ufficializzato quindi Tentoni potrebbe restare all'Arcella nonostante abbia trasferito la sua abitazione a Treviso, invece alla Liventina il 99% doveva essere Giovanni Soncini il tecnico che ha lasciato il Porto Gruaro. Quindi non Bodo? No, Bodo era stato collegato per l'amicizia che ha contenuto legami di federazione, legami appunto quando Tentoni l'ha voluto al Monte Belluna, si era ipotizzata questa nuova favore tra amici ma logicamente il calcio ha ben altri motivi. Quindi arriva a Soncini. Diciamo che Soncini era imprendicato già due anni fa a vestire la casacca della Liventina e quindi guidare la formazione di Motta di Livenza, sembra che questa volta ci sia riuscito soprattutto il direttore. Ultime botte. Vediamo nel Veronese quattro allenatori di rango al palo, Roberto Maschi, Alberto Facci, Flavio Caronelli, poi Beppe Brentigani e si è giunto anche Roberto Piuzzi che esce dal calcio professionistico per rientrare nel calcio dilettanti. Grande lavoro alla Rocca Altavilla con Paolo Beggio che ha già monitorato la disponibilità di Decao del Castelbaldo Masis, di San Donato e del Bassano, mentre Tonani centra avanti della Unione Ufelte potrebbe proprio accasarsi alla formazione della Rocca Altavilla che ha già bloccato Vanzo del Montecchio Maggiore e Romio ex Arsignano Tampo del Labano. Scendendo ancora Vettoretto è nell'occhio del tombolo, a San Donato Parpinelle non resta come Fiore che è appetito anche da qualche altra squadra, Fiore che ha giocato a Sanremo, mentre Bullo torna alla Claudine insieme a Appetito soprattutto dallo Spinea e dal Pozzo Nuovo. Zambon, Ruggero Zambon lascia il Treviso, a Godega se ne va Piazza che era al Belluno e Bassano in tempi recenti, Piazza lascia Godega come lascia Godega, Cason e poi Cavata il portiere e De Martin, per quanto riguarda Nalesso potrebbe restare all'Arcella anche se rientra al Campodarsico, Pazzaia dovrebbe lasciare il Conegliano come lo farà sicuramente Giacomin e Malloma e poi c'è Tabacchi terzino del Vittorio Veneto che dovrebbe rientrare al Belluno, Fabio Fiorotto lascia invece lo Zerobranco e potrebbe accadarsi al Ponzano, poi andiamo a Zuccon centravanti del ex Sandonà e ex Conegliano che lascia l'Amburgiana Trebaselle per il Ponte Crepaldo, Marco Toso centrale difensivo della Calvinoale che c'è a casa al Fulgor Salzano, mentre Frison centrale della Calvinoale e ex Fontana Fredda doveva essere il nuovo difensore centrale del Real Martellago. Siamo in chiusura, Flavio parlavi di Ponzano, c'è De Pieri confermato? Dicono. Stante le ultime notizie sì perché De Pieri era alluminacco però si doveva sciroppare ben 100 km serali quindi qualcosa di meglio. Fatta ad arte di più corto. Per quello che era il combinare il lavoro, il viaggio lavoro e il viaggio tecnico però rientra nella marca. Bene io ti ringrazio Flavio, Flavio Cipriani lo sentirete tra l'altro con un suo spazio velocissimo. Vorrei ancora una ultima cosa anche perché abbiamo l'immagine Nicola Correstini ex tecnico del Legnago Juniors Nazionali e nuovo tecnico del Castelbaldo Mase in eccellenza A. La regia non ha fatto tempo a mettere la foto ma la vedremo nelle prossime giornate. L'appuntamento è per venerdì all'interno di questo nostro spazio ma poi con uno spazio diretto appunto la finestra del calciomercato curata da Flavio Cipriani. Grazie Flavio e a risentirci e a risentirci a tutti voi sempre qui su venetoglobe.com e su Caffè TV 24. Grazie a tutti.